Un abito da sposa di metà ottocento, un capolavoro in arrivo dalla Calabria scelto per la locandina. È un abito prezioso perché è in pizzo chantilly di color avorio, con un lungo strascico e poi c'è una guarnizione e un fiocco rosato. Un abito in paillette firmato in Inerici, mantias, spagnole, nere per feste patronali e bianche in puro chantilly indossate soprattutto dalle regine cattoliche per udienza papale. Sono solo alcuni di quasi 200 pezzi unici, faticosamente raccolti dalla professoressa Fulvia Fiorino Dotoli e esposti in una mostra organizzata dall'Associazione Culturale Luigi Sturzo, presieduta dalla professoressa Marisa Fantasia. Moda e arte nell'abbigliamento tra 800 e 900, il titolo dell'esposizione allestita a Conversano nei locali del Palazzo Vescovile è aperta fino al 16 maggio. L'obiettivo di questa mostra è indicare al pubblico, ai fruitori, uno spaccato della società dell'800 e del 900. Un viaggio dedicato alla donna che racconta due secoli di moda e storia anche attraverso attrezzi che ricordano gli antichi mestieri come una mezzaluna in legno o una macchina da cucire di un secolo fa. Si ritrovano sciaglie e tabari del Gargano e grembiglione per bambini, una mostra fortemente voluta a Conversano, hanno spiegato nell'incontro di presentazione Marisa Fantasia e Fulvia Fiorino, città d'arte e cultura. E a Conversano rimarranno molti degli abiti donati.